Un intervento importante, 4 milioni e 100, circa 400 ragazzi, è un polo strategico per la zona est della città, è uno dei sei interventi su cui già i lavori sono avviati o sono in fase di avvio o di realizzazione, in alcuni casi anche la prossima settimana faremo un'altra borsa della prima pietra. Permangono delle difficoltà su ulteriori cinque edifici che sono in programmazione, Paganica, Sassa, Pianola, Giovanni XXIII e non ricordo l'altra. Comunque sono cinque interventi che sono stati oggetto di un confronto che abbiamo avuto lunedì con il capo di gabinetto del ministro Bianchi, il consigliere Luigi Fiorentino, abbiamo chiesto rapidità, risposte certe e lunedì 25 torneremo di nuovo dal consigliere Fiorentino per un confronto anche con la struttura di missione che poi è il luogo dove queste cose dovrebbero trovare una agevolazione. Forse due di queste cinque scuole le riusciremo a portare nella prossima seduta del CIPES. Insomma stiamo lavorando, non abbiamo mai dimenticato che l'edizia scolastica è una priorità di questa città.